Ciao ragazzi in questo buonissimo video, oggi siamo nella vanilla in duo con il nostro amico alfa che pure lui sta registrando un video ok se vuoi puoi iniziare anche col video allora ragazzi io prendo il letto ragazzi io inizio a prendere le cosette principali non so qua ok io sono in un po' di regno magari andiamo a dormire ok non credo faccia male eh eh si va bene vedo ma qua mmm 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 cos'è il coso con l'argo non 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 io ho 20 assi faccio una crafting table non 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 io ho otto torce vado un po' a esplorare ok vabbè abbiamo le torce ho finito le torce no no vabbè aspetta che sto facendo le torce aspetta chiaro che ti avevo perso questo ho il piccone per combattere no ci possiamo fare almeno se ci facciamo lo scudo io sono morto ho mezzo cuore vabbè piazzoletto o qua vicino che è per adesso questo qua 10. 11. 12. 12. 13. 14. 16. 19. 19. 20. va bene dobbiamo incorrare il ferro minerale allora non lo so a volte con filmora quello craccato oppure con quella cosa strana che fa solamente i tagli pure la serie è craccata non l'ho pagata te lo giuro te lo giuro io stavo a Salerno e c'era tipo questa sedia qua che praticamente la davano che non la volevano più c'era il cartello che la stanno per buttare io mi sono fatto 2 km di Salerno sopra la sedia me la sono messa nella macchinina e me la sono portata a casa che rompe si rompe noi siamo inglesi si ho capito ma tu stai registrando pure tu ok ah ragazzi comunque ho comprato la nuova scheda video perché non lo sapevo o comunque non so se vabbè io la scheda video l'ho presa come uno scemo perché stava su amazon io l'ho pagata 200 euro c'era praticamente un'altra cioè avevano messo un'altra tipo il giorno dopo che l'avevo comprata 171 euro nuova cioè io che ho speso 20 euro in più cioè lo scemo almeno è arrivata a me è tipo della MSI a te a me è della MSI a te la scheda video vabbè a parte Nvidia cioè chi è che è la marca diciamo pure te vabbè perché c'è pure Tuff Gaming uno strano non mi ricordo come si chiama Zotac Gaming tipo io ce l'ho là sopra che mi guarda dai cieli dalla menzola mi guarda la scatola no dico la scatola tu che case c'hai di che marca che case c'hai di che marca io ce l'ho della Mars Gaming ci ha messo un mese ad arrivare da Amazon no perché sono stati un sacco di problemi col tizio che lo vendiva ma vero con la qualità mamma mia cioè sembra fatta una cinese sotto casa cioè per poco non si rompeva tutto quanto guarda cioè c'hai i fili che è proprio la cinesità che lo senti in mano la cinesità vabbè i led però funzionano è quello l'importante vabbè vabbè ragazzi vabbè ragazzi allora il video è finito ci vediamo al prossimo episodio ciao